Ciao bambini, in questa lezione di storia vedremo come si è specializzato l'uomo del Neolitico in lavori del tutto nuovi, in particolare nell'artigianato. Scopriremo quando ha inventato il commercio e in che cosa consisteva il baratto. Cominciamo subito. È proprio al periodo del Neolitico che risale un mestiere molto antico, quello dell'artigiano. Che cosa fa un artigiano? L'artigiano produce oggetti o materiali a mano, quindi non si serve dell'industria, bensì di attrezzi che gli consentono di produrre oggetti piccoli o grandi che siano. Per farvi capire meglio vi ho messo sotto due immagini contrapposte. Nella prima sono ritratte torte fatte in casa che riproducono la famosa torta pandistelle. Se le osservate, oltre al fatto che ci viene una grande fame, ci rendiamo conto che tutte e tre le torte sono fatte in maniera differente. Ricordano la pandistelle, ma sono diverse. La prima ha un pan di spagna con in mezzo forse della crema di Nutella, la seconda è molto più spessa, ha tutti i biscottini sul contorno, la terza sembra quasi un biscotto gelato. Le torte industriali invece, come vedete, sono tutte uguali. Se voi andate al supermercato e comprate tre pacchi di torta pandistelle, oltre a farvi venire il mal di pancia, scoprirete che sono tutte e tre identiche a prendole. A partire dalla fine del 1700 dopo Cristo, quindi in un periodo relativamente vicino a noi, si è verificata quella che noi chiamiamo rivoluzione industriale, ovvero un cambiamento di grande portata sulla produzione dei beni. L'uomo ha inventato l'industria e quindi ha imparato a produrre in serie. Cosa vuol dire? Vuol dire a fare tutte quelle torte tutte uguali, a produrre tutte quelle torte pandistelle per distribuirle alla massa, cioè a una grandissima porzione di popolazione. Prima di allora l'uomo non conosceva l'industria e quindi come doveva fare? Produceva a mano tutti i beni di cui aveva bisogno. Si può dire quindi che in passato tutte le torte fossero artigianali, ma non solo le torte, i vasi, gli utensili, la cucina, gli oggetti, qualsiasi strumento necessari all'uomo per compiere qualche attività, era prodotto a mano. Vasi, forchette e via dicendo. Cerchiamo di capire insieme in che cosa consistono le caratteristiche di un prodotto artigianale e quelle di un prodotto industriale. Vediamo quali sono i vantaggi e i benefici di entrambi i prodotti. Allora, un prodotto artigianale è un prodotto che si produce pochi pezzi alla volta. Perché? Immaginiamo di dover metterci a produrre un vasetto o anche una torta, che forse è più semplice. Allora, se io mi metto a cucinare una torta, in base al tipo di torta che voglio fare avrò bisogno di un certo tempo. Prendo tutti gli ingredienti, intanto li devo aver comprati, quindi prendo la farina, le uova, un po' di zucchero, poi magari ci metto anche del cacao, mescolo, mescolo, aspetto. Insomma, tutto questo procedimento mi richiede del tempo. Alla fine io, considerando anche i tempi di cottura, ci ho messo circa un'oretta e in un'ora ho prodotto una torta. Una torta può sfamare quante persone. In un nucleo familiare è più che sufficiente, ma se io dovessi dare questa torta alla popolazione, cioè sfamare per esempio tutto il mio paese, non basterebbe di certo. Dovrei produrne di più. Questo mi richiederebbe molto più tempo, è ovvio. Quindi un prodotto artigianale, perché sia ben fatto, richiede tanto tempo e quindi non può essere prodotto in massa. Non posso farne tantissimi in breve tempo. Sono pezzi unici originali, cosa vuol dire? Che sono sempre diversi. La mamma ogni volta, per quanto si impegni, non farà mai la torta allo stesso identico modo, con lo stesso identico sapore, la stessa identica forma. Ogni volta verrà in maniera originale. Sono pezzi personalizzati, perché? Perché me li faccio, me li creo un po' come mi servono. Se io ho bisogno di un vasetto con un certo tipo di manico, perché devo fare, che ne so, un portapenne, lo realizzo esattamente come ne ho bisogno. Sono più facilmente deteriorabili. Cosa vuol dire? Che essendo un prodotto fatto da me, non ci metto dentro tutte quelle componenti chimiche che invece si usano nelle industrie per far, scusate, per far durare di più un determinato prodotto. Torniamo alla torta. Una torta comprata al supermercato è piena di quelli che si chiamano conservanti, che sono degli ingredienti chimici che permettono alla torta di non andare a male nel giro di un giorno. Una torta fatta in casa invece è più facilmente deteriorabile perché non ha conservanti e quindi va mangiata in tempi un pochino più brevi. Non dobbiamo di certo ingozzarci di tutta la torta all'istante, ma una settimana dopo quella stessa torta sarà abbastanza immangiabile ormai se non l'abbiamo ancora finita. Veniamo invece ai prodotti industriali. Allora, un prodotto industriale consente una produzione di massa, ovvero in pochissimo tempo io riesco a sfamare una grandissima porzione di popolazione, tantissime persone. Tant'è vero che quando andate al supermercato e trovate la famosa torta a pan di stelle non ce n'è una confezione, ma quante? Tantissime e oltre a quelle che trovate negli scaffali ce ne sono altrettante nei magazzini. I pezzi sono standard, cioè sono tutti uguali, come vi ho detto prima. Quando andate in cartoleria a comprare le penne non sono fatte artigianali, non ve ne danno una diversa dall'altra ogni volta che andate a comprare. Fate conto le bic, per esempio, o anche le penne cancelline, sono sempre tutte uguali. Questo perché la macchina, lo strumento che produce l'oggetto o il bene alimentare ha una forma sua specifica e quindi li fa tutti uguali. Non c'è l'intervento dell'uomo. I pezzi sono omologati, vuol dire che oltre a essere tutti uguali funzionano tutti allo stesso modo, quindi io devo sperare che mi vadano bene in un certo senso. Vi faccio un esempio. Se io compro la famosa torta pan di stelle, ma quelle stelline di zucchero che ci mettono sopra non mi piacciono? Me ne devo fare andare bene. O le tolgo una per una o altrimenti stringo i denti e butto giù. Quando invece me la fa la mamma glielo dico. Mamma, guarda, a me quelle stelline non piacciono. Fammela senza. Lei me la farà esattamente come voglio io. I prodotti industriali sono di più lunga conservazione per il discorso che vi facevo prima. Soprattutto quegli alimentari contengono conservanti. Poi è vero che a volte nell'industria si usano materiali scadenti e quindi alcuni giocattoli si rompono più facilmente rispetto a un giocattolo fatto artigianalmente con materiali di migliore qualità. Ma questo è tutto un altro discorso e non ci entrerei adesso. Se è vero che la rivoluzione industriale ha portato grandissimi vantaggi per l'uomo che ha iniziato a produrre in serie e quindi a produrre tanto in poco tempo, è anche vero che questo ha comportato dei grossi danni al nostro pianeta. Io ve ne parlo sempre perché è molto importante. L'industria per funzionare brucia combustibili, cioè materiali, per esempio il carbone in passato, che hanno inquinato fortemente l'ambiente. Si stima che oggi la produzione di massa sia così alta che è come se l'uomo stesse sfruttando tre volte di più le risorse che sono sul pianeta, cioè come se stessimo usando tre pianeti per costruirci le nostre cose, non uno solo. Vuol dire che la Terra è estremamente sofferente e quindi questo sistema di produzione industriale non va bene così come fatto. Bisognerà che l'uomo trovi un modo per continuare a produrre molto ma senza sprecare così tante risorse, per esempio sfruttando l'energia sostenibile, ne avrete sentito parlare, forse l'avete studiato con la maestra Anna di scienze. L'energia sostenibile non è altro che energia prodotta da fonti rinnovabili, per esempio l'energia solare, la luce del sole. Se voi molto semplicisticamente sfruttate l'energia del sole, che è un'energia che produce calore, potete per esempio far azionare l'elettricità e quindi accendere la lampadina in casa grazie all'energia prodotta dal sole. È una cosa molto complessa che ora non vi sto a spiegare perché comunque non la capireste bene. Quello che è certo è che di sicuro l'industria può essere realizzata con metodi più sostenibili per il pianeta. Come siamo arrivati a tutto questo, ovvero all'invenzione dell'industria e a tutte le conseguenze che ne sono derivate, rincorrendo la comodità. Cioè l'uomo ha capito e ha sempre cercato nel suo cammino evolutivo un modo per essere più comodo, massima resa con il minimo sforzo. Ma lasciamo perdere tutti questi discorsi moderni e torniamo a vedere cosa ha combinato l'uomo del Neolitico, come ha fatto ad arrivare a tutto questo. Ci siamo già detti mille volte che da quando l'uomo è diventato sedentario ha iniziato a specializzarsi in diversi lavori, primi tra tutti l'allevamento e l'agricoltura, poi con la comodità anche l'artigianato e il commercio. Cos'è stato il commercio in origine? Beh, non era altro che lo scambio di beni, di merci. Il baratto, quello che noi chiamiamo baratto, è praticamente una forma di pagamento. Io ti do il grano che ho coltivato nel mio orto perché sono un agricoltore, tu che sei invece un pescatore mi dai in cambio alcuni pesci del tuo pescato del giorno. Il baratto è stata un'idea geniale perché ha consentito all'uomo di cominciare a scambiarsi merci. Il vantaggio di scambiarsi merci lo capite anche voi. Un uomo non può essere contemporaneamente un allevatore, un agricoltore, un pescatore, un artigiano, tutto insieme. No, se io nella vita faccio il pescatore non posso fare tutto il resto, semplicemente anche per una questione dei tempi, ok, di energie fisiche. Però è anche vero che non posso vivere di solo pesce, così come l'agricoltore non può vivere di solo i pomodori, ok? Quindi è necessario arrivare al baratto perché è necessario che ci sia questo scambio. Io ti do qualcosa che ho prodotto e tu in cambio mi dai altrettanto. Pensate un po' a chi faceva l'artigiano, non poteva di certo vivere mangiando i suoi vasi. Il baratto è stato dunque la prima forma di commercio ed è attualmente la forma di commercio più antica inventata dall'uomo. Il baratto non è scomparso con l'invenzione della moneta, ancora oggi in alcuni casi si pratica quando non è possibile fare diversamente. Ma diciamo che nei commerci tradizionali, quindi nella compravendita, l'invenzione della moneta ormai l'ha quasi sostituito del tutto. La moneta è stata inventata tra il 700 e il 600 avanti Cristo, quindi prima della nascita di Gesù e la utilizziamo ancora ai giorni nostri abitudinariamente. Se vedete le immagini, la prima moneta, le prime monete in generale erano forgiate a mano da artigiani. Anche la moneta non era fatta industrialmente, abbiamo detto che l'industria è nata ben più tardi, nel 1700 dopo Cristo. Oggi invece la moneta è industriale, si fabbricano in serie e sono infatti tutte uguali, tutte regolari, in modo che anzi se la moneta è difettosa, cioè presenta delle irregolarità, significa che non è valida. All'inizio con l'invenzione del commercio i prodotti venivano interscambiati tra persone dello stesso villaggio. Si può dire che ci si commerciava tra concittadini. Quando poi i villaggi sono ampliati, quindi sono diventati sempre più grandi e c'è stata maggiore richiesta di prodotti, l'uomo ha iniziato a commerciare anche con altri villaggi. Vi faccio un esempio. Mettiamo il caso di due villaggi, uno che sorgeva vicino al mare e l'altro in collina. I prodotti derivanti dai due villaggi saranno profondamente diversi. I prodotti marini del villaggio al mare saranno per esempio la pesca, il commercio del sale, mentre in collina troveremo prodotti agricoli per esempio o allevamento del bestiame, cosa che invece non troviamo al mare. Quindi è necessario a chi abita in collina commerciare con chi abita al mare per avere il sale e viceversa, chi abita al mare commerciare con la collina per avere frutta, verdura, latte e via dicendo. È chiaro che se devo commerciare tra più villaggi sono fondamentali le vie di comunicazione. Quindi l'uomo ha iniziato a tracciare sentieri, non aveva ancora inventato la strada. Quella è un'invenzione che risale a molti secoli più tardi, ma sicuramente batteva sentieri e utilizzava i canali d'acqua, quindi fiumi, torrenti, su cui navigava con imbarcazioni primitive. Utilizzava anche gli animali da Soma, da Traino, per esempio l'asino o il cavallo, per trasportare le merci senza fare troppa fatica fisica. La lezione finisce qui. Vi saluto lasciandovi l'immagine della prima moneta forgiata dall'uomo, o almeno quella che si crede sia la prima. È stata ritrovata in Asia Minore, che è quella regione chiamata anche Anatolia, che trovate circondata in rosso e nell'immagine del planisfero vedete circondata. È stata ritrovata, è stata datata 685 avanti Cristo, quindi più o meno al periodo di cui vi parlavo prima. Ciao bimbi, buono studio!